Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sulla TV dei Numeri. Io sono Drake e vi auguro una buona visione per questo nuovo video. In realtà è un video un po' così, è un video di richiesta di aiuto, perché, come avete sicuramente letto dal titolo, mi servono nuovi moderatori. Aspettate, aspettate! Non è che se voi mi scrivete Drake fammi moderatori io ci sono sempre e Drake ti seguo dal 2001 e quindi è 6 fammi moderatori. Io non vi farò moderatori se mi scrivete solo questo. Dovete, per candidarvi, seguire alcune istruzioni che ora sto per spiegare. Purtroppo la chat della mia live fa schifo e io ultimamente leggo poco la chat appunto perché ci sono tantissimi messaggi di merda ragazzi. Ovviamente non vostri messaggi, gente esterna, non voi che mi seguite, ma gente esterna, a volte anche gli ether, che bestemmiano. Le bestemmie sono assolutamente da bannare per sempre. Quelli che spammano, gli spam da bannare per sempre e chi insulta qualcun altro. Se insultano me ragazzi, fregatevi, ma se insultano qualcun altro va per ma bannato, bannato per sempre. E ora vi spiego come fare a candidarvi. Non, ovviamente, so già che riceverò molte richieste, credo di fare solo 5 moderatori. Come bisogna fare per candidarvi? Dovete mandarmi una email. L'indirizzo email a cui dovete scrivere è il seguente, lo state vedendo. Se non avete voglia, sbatti, di scrivere l'email sulla vostra casella di post elettronica, potete andare anche sul mio profilo Instagram, dove c'è scritto email, cliccare su quel tasto e vi comparirà già scritto l'indirizzo email mio tra il destinatario. Cioè, se cliccate quel puzzante lì, avete già la schermata con l'indirizzo scritto, detto proprio in modo spicciolo. E adesso vi dico cosa dovete scrivere in queste email. Non dovete scrivere solo fammi un moderatore, tutto qua. No, perché così non vi farò moderatore. Dovete seguire le mie istruzioni perché io devo scegliere comunque persone di cui anche mi posso fidare. Perché se un moderatore mi banna un ragazzo che non andava bannato, a me dispiace per quel ragazzo che è stato bannato senza motivo. E quindi io, ragazzi, devo capire se posso fidarmi di voi o no. Cosa dovete fare innanzitutto? Cosa dovete scrivermi? Innanzitutto, la vostra età. Per fare il moderatore nel mio canale io chiedo almeno 16 anni. Ma non perché, ragazzi, non mi fidi di ragazzi più piccoli, perché io so che ci possono essere anche ragazzi di 14 anni che sono più maturi di uomini di 30. E so che ci possono essere anche uomini di 40 anni che sono più immaturi di ragazzi di 13. Il problema qual è, ragazzi? A volte anche io cedo alle provocazioni e questo è un mio grande difetto. Io credo che verso 16 anni tu riesci a imparare a non cedere alle provocazioni. Perché ho avuto spiacevoli episodi in passato con moderatori più giovani di 16 anni e più piccoli che hanno troppo ceduta alle provocazioni, raga. E a me questo è dispiaciuto. Mi dispiace perché so che magari qualcuno di voi più piccolo poteva effettivamente aiutarmi. Però, ragazzi, dovete anche capire me, il rischio per me è troppo, quindi almeno 16 anni. Seconda cosa, il nome. Il cognome, ragazzi, io non lo voglio sapere, non mi interessa. Però il nome sì, perché mi piace sapere come vi chiamate, perché il nickname sì, vi esprime, ma in realtà anche il nome... Cioè io voglio sapere se vi chiamate Giovanni, che vi chiamate Giovanni. Il cognome no, raga, il cognome non mi interessa. Il nome però mi piacerebbe che voi lo scriviate, anzi lo dovete scrivere se volete essere moderatori. Solo il nome, Giovanni, Riccardo, Francesco e quant'altro. 3. Il link del vostro canale YouTube. Per il semplice motivo che io, per nominarvi moderatori, devo inserire il vostro link, il vostro canale YouTube. Se voi non me lo scrivete, io a prescindere, anche se siete il moderatore perfetto, io non vi posso fare moderatori. Mi dispiace, mi dovete mandare il vostro link di YouTube. E quattro, ragazzi, ultimo punto, una breve descrizione di voi stessi, ragazzi. Potete scrivermi davvero qualsiasi cosa. Scrivetemi qualcosa di voi che mi faccia capire un po' come siete, hobby, che giochi fate. Davvero mi potete scrivere qualsiasi cosa, quale scola fate, se siete fidati, qualsiasi cosa, raga. Solo per... perché io, ragazzi, credo anche che con i collaboratori, e voi, ragazzi, se diventate moderatori, siete comunque gente che mi aiuta, gente che appunto, tra virgolette, lavora, perché ovviamente non siete pagati. Perché però, ecco, mi aiuta, mi aiuta. E quindi io, secondo me, io riesco a lavorare bene con un determinato tipo di persone. Ci deve essere, secondo me, un po' quel feeling, tra virgolette, adesso non so bene come chiamarlo. Però secondo me ci deve essere. E quindi, mandatemi anche una descrizione di voi, in modo che io un po' riesco già un po', tra virgolette, a conoscervi, a sapere qualcosa di voi che mi aiuta proprio per la scelta. E quindi, ragazzi, io vi aspetto. Risponderò alle mail entro 48 ore, entro due giorni. Quindi, se voi mi scrivete e il giorno dopo ancora non vi ho risposto, è del tutto normale. Mi raccomando, candidatevi comunque in molti, io vi aspetto. E grazie ancora a tutti, ragazzi, per voler aiutare a me col canale. Vi ringrazio, come faccio davvero poche volte, con i miei due amatissimi fenicotteri, ragazzi. Vi aspetto in live e non mi fenicotterate, mi raccomando. Grazie di cuore a tutti e vi aspetto. Mi raccomando, ragazzi, buon lavoro se doveste diventare moderatori.